Musica Buongiorno a tutti voi e bentrovati con l'informazione del mattino di TRG con le notizie di oggi venerdì 20 maggio 2022. Balneari il richiamo ai partiti è questo il titolo di apertura del messaggero Draghi convoca d'urgenze ai ministri e sul DDL concorrenza ottiene il voto di fiducia Palazzo Chigi incassa il pieno sostegno del Parlamento sull'Ucraina Conte resta isolato. E poi la notizia che sta destando una certa preoccupazione vaiolo delle scimmie primo caso a Roma contagi solo per contatto focolaio alle Canarie il malato e allo Spallanzani altri positivi in Europa per ora niente vaccini febbre e vesciche questi sono i sintomi sintomi sono per l'appunto febbre vesciche il contagio può avvenire solo se c'è contatto capiremo fra poco. Cosa c'è da sapere? La fotonotizia del messaggero è dedicata al Papa e Bono Vox alla Pontificia Università Urbaniana Cantico per le donne l'incontro in Vaticano. Papa Francesco ha detto hanno il superpotere di madre terra e poi per quanto riguarda invece lo scenario internazionale di USA difficile riprendere il Donbass ai russi i generali di Putin e degli Stati Uniti tornano a parlarsi gli Stati Uniti più nello specifico ammettono che sarà difficile per l'Ucraina riprendere il Donbass a Putin. Nel giorno in cui il Cremlino si dice pronto a nuove trattative si parlano i vertici militari di USA e Russia intanto Biden blocca i superlanciarazzi troppi i rischi possono colpire in Russia. Le anticipazioni da Terni con il messaggero l'allarme il pronto soccorso è in ginocchio bloccati i ricoveri anche di questo parleremo a tempo debito nelle notizie che riguardano le città della nostra regione. Vediamo anche l'apertura con la Nazione ci risiamo ora c'è l'allarme vaiolo portato dalle scimmie il primo caso allo Spallanzani di Roma è un uomo tornato dalle Canarie sintomi come detto sono febbre ma anche mal di testa si trasmette con i rapporti sessuali e l'OMS dice il vaccino che veniva fatto anni fa è efficace. Dai virologi però ci sono pareri diversi come con il covid poi di nuovo la politica in apertura troppi dossier fermi PNRR a rischio arriva all'ultimatum del presidente del consiglio Mario Draghi. Ieri a Palazzo Madama Draghi ai partiti ha detto le riforme o lascio il presidente del consiglio sferza dunque la maggioranza convoca un cdm improvviso e da l'outout ai partiti vanno sbloccate le riforme a partire dal DDL concorrenza sul quale sarà chiesta la fiducia altrimenti il governo non dura e l'urgenza si fa impellente sui fondi europei. Dice Draghi il mancato rispetto delle tempissiche metterebbe a rischio il raggiungimento di un obiettivo fondamentale del PNRR. Vediamo anche le anticipazioni dalle città dell'Umbria donne nel mirino dei violenti le richieste d'aiuto sono raddoppiate e poi invece sempre in Umbria sono 16.000 le multe scattate per gli over 50 che non hanno effettuato il vaccino anti covid. E poi una notizia che riguarda la città di Perugia il cardinale Bassetti lascia e dice dal 27 maggio sarò vescovo emerito. E allora vediamo proprio tutte le notizie che riguardano innanzitutto lo scenario nazionale subito le riforme o mi dimetto come abbiamo detto Draghi striglia la maggioranza il premier si dice estenuato dai distingui di Lega e Forza Italia e dalle incertezze grilline sull'Ucraina. Una strategia condivisa con Mattarella per Palazzo Chigi non si possono perdere le risorse del PNRR. Più nel dettaglio la situazione dice Draghi continui slittamenti hanno paralizzato l'attività parlamentare sul DDL concorrenza verrà posta la fiducia. E si parla però come detto anche di questo nuovo allarme il vagliolo delle scimmie che è in Italia febbre e mal di testa sono i primi sintomi. La diagnosi allo Spallanzani su un giovane che era di ritorno dalle Canarie si al monitoraggio no a paure irrazionali. Come si trasmette? Gli infettivologi ritengono che il serbatoio del virus sia localizzato nei piccoli eroditori. L'agente eziologico ora si trasmette da una persona all'altra attraverso la saliva e i fluidi corporei. Pare tende a propagarsi per stretto contatto interumano tramite rapporti sessuali senza escludere si legge la comunità gay bisex. Precauzioni da prendere ma soprattutto la vaccinazione servirebbe l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ha ricordato che il vaccino antivaiolo è efficace anche contro il vagliolo delle scimmie. I più anziani sono quindi scoperti ma non i più giovani. Siccome infatti le giovani generazioni dall'81 non vengono più vaccinate contro il vagliolo l'immunità di comunità è calata. L'OMS aveva proclamato allora la scomparsa del vagliolo dalla faccia della terra proprio grazie alle vaccinazioni di massa, ha spiegato l'immunologo Antonella Viola. Un vaccino e un trattamento specifico contro il vagliolo delle scimmie sono stati approvati però anche nel 2019 e nel 2022 ma avverte l'OMS non sono ancora ampiamente disponibili. Quali sono i sintomi? Come abbiamo detto la raccomandazione ovviamente è quella immediatamente di rivolgersi al medico nel caso in cui si avvertono dei sintomi specifici come ad esempio la comparsa di vescicole sulla pelle specie se accompagnate da dolori muscolari, febbre, cefalea. I sintomi in genere si attenuano spontaneamente in una decina di giorni stando a riposo anche senza terapia. Ed ora passiamo alle notizie che invece riguardano la nostra regione in apertura sempre con la nazione laureati ma a spasso 4.000 in Umbria. Dall'Auro ovvero l'Agenzia Umbra Ricerche dati impietosi, i cervelli fuggono dalla regione e la guerra rischia di farci perdere un punto di pil. La fotonotizia è di nuovo dedicata al Cardinale Bassetti, il saluto proprio del Cardinale Bassetti ha detto parlato col Papa dal 27 maggio sarò vescovo emerito e poi la decisione invece in ambito sanitario Massimo Braganti è il nuovo direttore generale della USL1. Ad Assisi la cronaca ha smascherato e denunciato un falso carabiniere che ha tentato di truffare un 86enne a Spoleto, sorvegliato speciale, beccato alla guida, mai presa la patente, aveva peraltro anche tentato la fuga. Ma tutto questo lo vedremo fra poco, intanto vediamo anche l'apertura del Corriere dell'Umbria dedicata alla cronaca da Città di Castello, morto in casa, ipotesi omicidio. L'uomo di 41 anni abitava proprio nel centro Tifernate e la procura ha aperto un fascicolo contro i gnoti. Ne parleremo più nel dettaglio in un servizio che vi riproponiamo dal TG di ieri sera. La fotonotizia invece del Corriere dell'Umbria è dedicata alla libreria Paoline che chiude dopo 67 anni a Perugia il 18 giugno, più nello specifico chiuderà questa storica libreria in piazza 4 novembre. E poi l'altro titolo in primo piano, Tesei, con i fondi PNRR supereremo gli effetti della guerra. Per l'Aur è la metallurgia il settore più colpito dalle conseguenze del conflitto. La regione punta sul piano di investimenti per reggere alla crisi. Vediamo anche la prima pagina regionale, il dorso regionale del messaggero. Crisi del lavoro, è laureato un disoccupato su 5. La relazione Aur, Exporter in Cari, la guerra può bruciare lo 0,7% del PIL Umbro. In economia le imprese intanto hanno investito 113 milioni di euro per la digitalizzazione. Un primato italiano, di nuovo l'annuncio del cardinale Bassetti dopo l'incontro con il Papa, l'ascio dal 27 maggio e poi la notizia invece che era in apertura da Terni, il pronto soccorso in ginocchio anche due giorni per il ricovero. Pazienti costretti e lunghi attese, mancano anche i barellini. A Perugia intanto è indagato il conducente che ha investito una ragazza di 15 anni che ora è grave, tornava a piedi da scuola. Vediamo proprio tutte le notizie più nel dettaglio. Iniziamo con le pagine della Nazione. Donne vittime di violenza e stalking. Le richieste di aiuto sono cresciute del 136%. Le chiamate al 15-22 sono state 610 dall'Umbria nel 2021 contro una media di 250 degli ultimi tre anni. A livello regionale la domanda di sossegno da parte delle vittime è stata dieci volte più alta rispetto all'Italia. Questo perché secondo l'Istat è probabile che le campagne di sensibilizzazione promosse dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza di Palazzo Chigi sui canali televisivi ma ovviamente rilanciate anche sui social tra la fine di marzo ed aprile del 2020 abbiano rinforzato infatti il messaggio dell'importanza della richiesta di aiuto per uscire dalla violenza che alla luce dei nuovi dati aggiornati confermano la loro rilevanza. Il picco, nello specifico il 2021, ha superato nettamente il 2020 record di telefonate nei due periodi del lockdown. Leggendo ancora più marcato l'aumento di chi chiede informazioni al numero del Ministero, in 610 lo hanno interpellato l'anno scorso contro le 258 chiamate dell'anno prima. Erano state invece 262 in Umbria nel 2018 e 240 nel 2019. Dunque si legge un vero e proprio boom con un incremento del 136% da un anno all'altro, il doppio di quello a livello nazionale con un più 65,3%. Per le vittime i motivi che inducono a contattare il numero di aiuto e le segnalazioni di casi di violenza e informazioni sui centri antiviolenza presenti nella propria regione, il servizio 1522 svolge un'importante funzione di snodo a livello territoriale tra i servizi a supporto di coloro che vi si rivolgono. Il 68,8% delle vittime nel quarto trimestre del 2021 è stata indirizzata verso un servizio territoriale e di queste il 93,5% è stata inviata ad un centro antiviolenza. Oltre a denunce e richieste di sostegno, molte donne chiedono proprio anche di sapere dove si trovano i CAB, ovvero i centri antiviolenza. Il processo vuoi lasciarmi? Io ti ammazzo. Minacciava la moglie anche davanti ai figli, incurante dei divieti. Dunque non avrebbe accettato la fine della relazione con la moglie, non si sarebbe curato del divieto di avvicinarsi a lei, ai figli, alla casa, ai luoghi da loro frequentati. Al contrario avrebbe ripetutamente seguito la donna, chiamandola spesso al telefono per insultarla. Ora l'uomo però deve rispondere di maltrattamenti in famiglia. L'ex moglie in aula ha ribadito quanto già denunciato tre anni fa. In tribunale l'uomo si è presentato ovviamente e ha spiegato il suo comportamento. Più nello specifico si legge l'uomo sospettava che la ex avesse una relazione con il vicino e per questo avrebbe minacciato ripetutamente anche lui. Un insieme di azioni che secondo l'accusa avevano indotto nella donna uno stato permanente di ansia e di paura. L'imputato viene anche contestato. Un episodio di abuso di mezzi di correzione avrebbe preso a schiaffi il figlio, tredicenne. Un'altra pagina di storia nera è quella che ci porta a Città di Cassello. Trovato morto in casa, il mistero continua, si legge. Le indagini sono in corso per stabilire le cause del decesso di Marco Brunelli di 41 anni perché quelle ferite alla testa e alla gamba. Infatti l'uomo è stato trovato purtroppo senza vita nel pomeriggio di mercoledì 18 maggio ai piedi del letto e presentava un'evidente frattura della gamba sinistra, ferita alla testa. L'uomo però era probabilmente morto già da diverse ore e in casa, si legge, lo vegliava il suo cagnolino. Ma di questo ne parleremo fra poco in un servizio. Intanto nessuna pista è stata esclusa, sopralluoghi e testi sono stati sentiti dalla polizia, ora sta indagando la procura. Domani l'autopsia nell'appartamento, c'erano anche tracce di sangue. Ed invece un incidente si è verificato a Solfagnano, è stato coinvolto un altro pedone, una quindicenne è stata investita da un'automobile, è grave. E il terzo incidente grave di questa settimana, il secondo che vede coinvolto un pedone, e per di più ancora una volta molto giovane. La vittima infatti non ha ancora compiuto 15 anni. È successo questo fatto a Solfagnano intorno alle 12.30 lungo la strada Tiberina Nord nei pressi della scuola media del paese. La ragazza infatti stava attraversando la strada quando è stata investita da un'auto condotta da un uomo che si dirigeva in direzione Cesena. E poi, altro fatto di cronaca invece, è quello della cultura, della legalità sul diario, perché la Questura di Perugia ha donato un'agenda speciale agli studenti dell'Istituto Comprensivo 12 e le parole di Bellassai, che ha spiegato anche qual è lo scopo dell'iniziativa, ha detto quello di avvicinare gli adulti di domani ai valori e ai principi che li renderanno cittadini responsabili. Intanto, sempre per la cronaca giudiziaria, Suarezco, sono sette le condanne a Monza per l'esame farsa. La pena più alta è di 4 anni e 8 mesi. L'inchiesta era nata in Brianza in seguito ai fatti avvenuti all'Università per Stranieri di Perugia. A Spoleto, sede Proloco Norcia, il sindaco alemanno di nuovo in tribunale, doveva essere temporanea ma è diventata struttura fissa, sentito l'allora presidente del Parco Nazionale dei Sibilleni. L'Ottal Covid, Novax, sono 16.000 le multe scattate in Umbria, tanti fanno ricorso. Gli Over 50 che non si sono vaccinati sono 27.000 ma molti hanno avuto il Covid. La contestazione va fatta all'ASL entro 10 giorni. E si legge, sempre con la Nazione, che nella prima tranche inviata dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione sono 16.172 gli Umbri che hanno più di 50 anni che sono stati multati per 100 euro ciascuno perché non hanno fatto il vaccino. Altre tante cartelle però stanno per essere spedite in questi giorni per raggiungere altri over 50 Novax. In tutto questo però c'è ovviamente da tenere conto di un margine di errore che si aggira sul 10% delle sanzioni inviate e che riguarda poco meno di 2.000 persone. Queste 2.000 persone sono coloro che si sono vaccinate nonostante la multa recapitata o che avevano un'essenzione eppure si sono presi il Covid in quest'ultimo periodo. Secondo i dati ricavati dal sito della Regione Umbria riferiti allo scorso 31 marzo i non vaccinati con più di 50 anni per i quali dunque l'obbligo è scattato l'8 gennaio sfiorano quota 27.998 per essere ancora più precisi. Ed intanto a proposito di Covid però la curva continua a scendere ancora i positivi sono a quota 9.000 però sono il triplo perché la Regione evidenzia che ci sono pochi, vengono fatti ormai pochi tamponi molti peraltro li fanno ormai autonomamente per conto loro e quindi positivi potrebbero essere il triplo. Intanto però la curva epidemica in Umbria come detto mostra un trend in diminuzione rispetto alle settimane precedenti. Sempre parlando di Covid però nei luoghi di lavoro sono 10 le vittime e quasi 2.000 i contagiati a dirlo è la direttrice dell'INAIL dell'Umbria Alessandra Ligi che ieri era Norcia dove è stato inaugurato il restauro del monumento alla sicurezza sui luoghi del lavoro se il virus, ha detto la Ligi, viene contratto sul luogo di lavoro l'INAIL lo tratta alla stregua di qualsiasi altra malattia professionale. Dal gennaio del 2020 al marzo di quest'anno i morti in Umbria per Covid sui luoghi di lavoro sono stati 10, gli infortuni 1.958. Andiamo ancora avanti con le notizie, parliamo ancora di numeri ma quelli dell'economia crescono i disoccupati con la laurea, sono 4.000 l'Umbria e Maglia Nera. Nel 2018 erano il 13% di quelli senza impiego, ora sono saliti al 21%. Manca la domanda di lavoro qualificato e le imprese non fanno innovazione così i ragazzi si iscrivono nelle università fuori dalla nostra regione. Il 2021 in base alla situazione è stato comunque un anno di crescita del lavoro le persone infatti stanno cercando una nuova normalità. Dobbiamo reggere l'urto in ogni modo, il sostegno va dato ai giovani, questo è il commento rispetto ai dati dell'Aur, della Presidente della Regione Donatella Tesei, però a questo focus se ne aggiunge un altro che riguarda invece le prospettive economiche perché la guerra tira giù il PIL dello 0,7%, pesa l'export con Russia-Ucraina, l'incidenza della crescita dei costi energetici passa dal 4,8% all'8,3% e attacca soprattutto il settore metallurgico. Il PNRR su questo sarà una boccata d'ossigeno per le famiglie, ma una fetta dei benefici però andranno ad altre regioni, questo sempre secondo lo scenario di Aura di cui sentiremo parlare fra poco in un servizio. I fatti del giorno, lo abbiamo detto ampiamente, il Cardinale Bassetti si dimette dagli incarichi, l'annuncio lascio, ha detto l'archidiocesi, ma resterò a Perugia, che per me è diventata come Firenze, ovvero la culla da cui sono partito. Per la buona sanità, Momna è guarita e torna in Pakistan, la piccola è reduce da un trapianto di midollo, l'ha salutata con affetto la Presidente Tesei, ora potrà riabbracciare il fratellino e il papà dopo quasi un anno e mezzo di cure e un trapianto di midollo osseo, che è stato per l'appunto eseguito a Perugia. Sotto i riflettori, la rivoluzione digitale, le imprese sono pronte, la ricerca di Assintel ConfCommercio, le aziende puntano su cloud, sicurezza e marketing, e sono stati fatti investimenti per 113 milioni di euro. In totale sono quasi 61.500 le imprese in rete, su un totale di 75.747 attive. Da Perugia a Skate Park c'è la raccolta di firme al via, serve una fontanella potabile, riguarda l'area di Piazza del Bacio, che avrebbe bisogno di un erogatore d'acqua per i frequentatori. Intanto in via della ferrovia si parlava di abbandono dei rifiuti, però è iniziata la rimozione, i cittadini commentano era un'indecenza. Vediamo anche le notizie con il Corriere dell'Umbria, in apertura si parla di nuovo dell'indagine di AUR, con la presidente Tesei che commenta con il PNRR superiamo gli effetti della guerra. L'analisi AUR sull'impatto economico del conflitto, la metallurgia è il settore più colpito e la regione punta tutto sugli investimenti. Intanto c'è il boom di dimissioni fra i lavoratori a tempo indeterminato, il lavoro in ripresa, ma non mancano delle criticità. E sono 2.000 euro le spese che si aggirano per impresa per il digitale, ovvero le imprese spendono soltanto, si legge, 2.000 euro l'anno per il digitale. È stato presentato il rapporto Assintel-Confcommercio, impegnati 113 milioni di euro per lo sviluppo. La Col di Retti intanto presenta il Circular Tour, al mercato contadino di Perugia di Campagna Amica, arriva la grande festa dell'economia circolare, ci saranno laboratori didattici, domani in programma, tanti appuntamenti soprattutto per le famiglie. Ex montane, 20 milioni di buco, pronto il piano di risanamento, vendita degli immobili dell'Afor e unificazione dei patrimoni per coprire le perdite del Trasimeno. Intanto anche il Corriere riporta la notizia del Cardinale Bassetti e poi il piano degli abbattimenti o dei cinghiali, c'è il Via Libera da Confagricoltura e poi ovviamente non si può non parlare dell'allarme peste suina africana che è alle porte della regione Umbria. C'è un bello speciale dedicato al weekend con gli eventi da seguire in Umbria, che però lasciamo alla vostra lettura. Intanto andiamo avanti anche con le notizie del messaggero. In apertura, dicevamo, l'export e i rincari, la guerra può bruciare lo 0,7% del PIL Umbrio. L'incidenza dei costi energetici è raddoppiata in due anni. La sfida del digitale, l'Umbria è più avanti. Anche il messaggero riporta dunque il report dell'Assintel Confcommercio. In un anno le imprese, come detto, hanno fatto oltre 113 milioni di investimenti. E poi l'incontro a Spoleto, fondi per lo sviluppo area del sisma, ecco le istruzioni, scusate, le opportunità di sviluppo per le aree del sisma sono al centro del convegno e in programma oggi alle 15.30 a Spoleto nella Casa del Complesso Monumentale di San Nicolò. L'iniziativa è promossa dalla Regione, da Sviluppo Umbria e struttura commissariale per la ricostruzione ed è finalizzata proprio a presentare a imprese, addetti e lavori le opportunità offerte dal Fondo Complementare PNRR per le aree del sisma. Andiamo ancora oltre. Per la cronaca siamo a Solfagnano. È stata investita mentre tornava da scuola e grave, come abbiamo detto, una ragazzina di 15 anni che si trova in rianimazione dopo essere stata colpita da un SUV. Intanto anche a Gubbio, un fatto di cronaca, motociclista in condizioni gravissime dopo lo scontro con un'auto. Nella serata di ieri infatti un bruttissimo incidente tra un'auto e una moto si è verificato lungo la strada tra le frazioni di scritto e di Mengara. Sul posto è stato immediato l'intervento dei vigili del fuoco, dell'ambulanza e delle forze dell'ordine. L'uomo alla guida della moto era in condizioni di incoscienza ed è stato trasportato a Perugia in codice rosso mentre la donna alla guida dell'auto ha riportato un trauma cranico facciale con varie ferite ed è stata trasportata all'ospedale di Branca. Ecco le foto che vedete fanno proprio il riferimento all'incidente di Gubbio di ieri sera che si è verificato intorno alle 19.45. Intanto torniamo alle notizie. Siamo a Perugia, rivolta a radiologia, pazienti mandati a casa senza fare gli esami e dunque continua l'attenzione al Santa Maria nel reparto di radiologia dove almeno 15 persone hanno protestato vivacemente contro un'organizzazione che hanno definita folle. Questo si evince proprio dall'articolo del messaggero. E poi si parla anche della continua invasione dei cinghiali nei parchi e ancora aggressioni, si legge. Siamo sempre nella zona di Perugia, più nello specifico nell'area fra Montegrillo e Ponte Doddi dove è stato segnalato un nuovo attacco dei cinghiali. Vediamo anche le notizie con i siti web su Umbria24, la guerra che potrebbe costare all'Umbria quasi un punto di pill, la ripresa è a rischio. Di nuovo il dato che emerge dalla relazione economica e sociale dell'Agenzia Umbria Ricerche che è stata presentata venerdì. A Città di Castello, trovato morto in casa, questo è il titolo invece di Perugia Today, due le ferite riscontrate alla testa e alla gamba. Mistero sull'ora della morte. Su TuttoOggi.info invece in apertura, il violento scontro fra l'auto e moto, due i feriti a Gubbio, il Centauro alla guida proprio della motocicletta è finito in ospedale in codice rosso. Su Gualdo News invece il Covid, secondo il report settimanale, si sta evidenziando un calo della curva epidemica in Umbria. Su TRG Media, la notizia che riguarda la sanità, Massimo Braganti è stato nominato direttore generale dell'Usl Umbria 1. E poi su notizia diretta, invece, truffe agli anziani, cresce l'allarme ad Umbertide. Numerosi sono i casi segnalati negli ultimi giorni di Umbertidesi che ricevono al telefono richieste di denaro. Ma dicevamo che certamente la notizia che riportano tutti i giornali è il fatto di cronaca da Città di Castello. è stato trovato morto quest'uomo di 41 anni, Marco Brunelli, che era ben voluto da tutta la città, da tutti i vicini. Ne ha parlato di quanto accaduto in un servizio il nostro, Carlo Stocchi. Emergono ulteriori particolari della morte di Marco Brunelli, 41 anni, trovato senza vita nella camera da letto della sua abitazione in via Borgo Farinario, Città di Castello. Gli inquirenti stanno indagando per ricostruire quanto avvenuto. A causa dell'evento lesivo ed eventuali responsabilità penali, come scrive anche la procura in una nota. Al momento pare che non sia stato aperto a nessun fascicolo, né che ci siano iscritti. Brunelli, lo ricordiamo, è stato ritrovato ai piedi del letto da un suo amico mercoledì intorno alle 19, dopo che dal giorno prima nessuno lo aveva visto in giro, né rispondeva al cellulare o ai messaggi. L'amico, anche lui di 41 anni, possedeva le chiavi dell'abitazione e dopo essere tornato dal lavoro, ha deciso di andare a vedere cosa fosse successo e perché Marco non rispondeva a nessuno. Dopo essere entrato e aver salito le scale fino all'ultimo piano della palazzina a terra cielo, dove Brunelli vive da solo in compagnia di un cane, ha visto una scena straziante. Il 41enne era ai piedi del letto con una evidente frattura alla gamba sinistra ed una ferita lacero contusa al capo, come scrive la procura. Nonché si rilevava la presenza di tracce matiche nei vari ambienti della casa. Così, subito, è scattato l'allarme. Sul posto, i medici dei 118, di versione prima, forse addirittura la sera precedente. Per sabato è fissata l'autopsia, che potrà chiarire i tanti misteri che ancora restano intorno alla morte di Brunelli, anche se, piano piano, sta prendendo sempre più corpo quella di un tragico e fatale incidente domestico. Il 41enne era conosciuto da tutti i residenti in zona, la mattonata, e non aveva nemici. Riprendiamo con le notizie dalle città. Siamo a Perugia, Madonna Alta, campagna amica, al mercato e alla festa del Circular Tour. Domani e domenica arriva il grande evento dedicato all'economia circolare. La nomina, di nuovo, USL1, Braganti, è il nuovo direttore generale. D'Angelo, invece, tra i papabilissimi per il Broletto. E poi torna Asma Zero Week, consulenze mediche gratuite all'ex Grocco. Si parla anche degli avvocati, che rivedono il processo a Dante, 700 anni dopo. Se ne parla oggi, alle 17, al Teatro della Sapienza, in una tavola rotonda organizzata da Aiga, che è per la sezione di Perugia e Firenze. E si parla anche di Avis sotto le stelle, perché c'è un grande evento in centro, musica e spettacolo con Vallesi e Mezzancella, in occasione dell'Assemblea Nazionale di Avis, che si tiene proprio a Perugia in questi giorni, fino al 22 di maggio. Grand Tour Perugia, il bilancio, un anno di eventi, 8.000 visitatori e 255 le visite guidate. Concorso Zangarelli, la scuola Morlacchi, con gli studenti sul podio. Da Toro sul Trasimeno, 200 disegni per un sorriso al Chianelli. I lavori degli studenti nell'iniziativa I Colori della Speranza, voluta dal Comitato per decorare la nuova ala del centro. Con le nostre mani, un regalo dai ragazzi pericuitanei, ricoverati nella struttura di cura. A Corciano, così l'antiquarium diventa più moderno, sono partiti i lavori per 100.000 euro. A Piegaro, la città ospita la giornata dell'Approciv. Domenica il raduno dei volontari, con l'appello ovviamente a cercare nuove adesioni. Rifacimento delle strade, cantieri per 270.000 euro complessivi, tra Piegaro e Castiglione del Lago. A Magione, invece, a Vignaia, apre la nuova area verde. Andiamo ad Assisi, Proloco, la sede è una discarica. Su a Petrignano, più nello specifico l'ex sindaco Romoli, dice degrado totale. Nel parco, invece dei bambini, ci sono spacciatori. Ad Assisi, i servizi di affissione cambiano i pannelli e poi riducendo l'immagine, per leggere ancora meglio, a Bastia Umbra, la nuova banconota è stata progettata a scuola. Gli allievi della Antonietti impegnati nel concorso promosso da Banca Italia. Continuiamo con le notizie. Siamo sempre ad Assisi. Tenta la truffa dell'incidente, ma viene denunciato. Suona a causa di un'anziana chiedendo 3.000 euro di risarcimento, ma una vicina lo smaschera. Arriva la polizia. È stato denunciato dalla polizia per tentata truffa l'uomo che, spacciandosi per un carabiniere con una falsa scusa, aveva cercato di farsi consegnare denaro e preziosi da una donna di 86 anni. La cortezza dell'anziana e la collaborazione di una vicina hanno consentito agli agenti del commissariato di risalire al truffatore e di deferirlo. Dunque, massima attenzione per questo allarme per le truffe. A Marciano, di nuovo una notizia che riguarda proprio questo aspetto. Ancora raggiri online, insospettabile, finisce nei guai. Una donna vende cosmetici sul web, intasca i soldi e poi sparisce. È stata però beccata dai carabinieri. A Gubbio si parla ovviamente di ceri, così, scusate, si parla di rifiuti, così possiamo riutilizzare i nostri scarti. Progetto didattico rifiutor con le scuole del territorio per andare oltre la differenziata. Laboratori di riciclo e premi ai ragazzi. I rifiuti, dunque, il loro percorso dalla raccolta differenziata al riciclo hanno ispirato il progetto didattico rifiutor. È stato un progetto promosso dal Comune e da Geseno che è riservato alle scuole di ogni ordine e grado del territorio e denato dalla volontà di informare e mostrare agli allievi e alle allieve nonché ai loro insegnanti in maniera diretta, semplice e trasparente che fine fanno i rifiuti che si producono mettendo nel contempo a disposizione anche l'opportunità di entrare in un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti. Di nuovo la notizia di cronaca moto contro auto un ferito grave l'incidente ha scritto il conducente dello scooter in ospedale in codice rosso. A Gualdotadino invece si parla di politica sull'ex Calai chiarire subito scelte e responsabilità il PD torna ad insistere sull'edificio del vecchio ospedale e chiede un confronto istituzionale. A Nocera Umbra lavori stanziati 80 mila euro per le strade bianche lavori partiti sulla viabilità secondaria che interessa soprattutto le frazioni è iniziato anche lo sfalcio. Andiamo a Città di Castello infrastrutture realizzare la Due Mari sopra il luogo di Simonini ieri giornata Umbra per il commissario nei territori dove passerà la grande strada in Alto Tevere nella regione due lotti per complessivi 23 chilometri. Da Umberti della Rometti partecipa Buongiorno Ceramica soddisfatta l'assessore Sara Pierucci da Pistrino invece i lavori per la nuova rete fognaria in via Roma sopra il luogo al cantiere c'erano anche i rappresentanti di Umbraacque e quelli del comune. A Foligno tutte le falle della sanità liste d'attesa top secret i sindacati incalzano il direttore generale dell'USL2 Massimo Defino e dicono c'è carenza di molti primari ospedalieri oltre a quelli del direttore di presidio e poi si parla però anche di voglia di festa perché le sponde del topino si rianimano tutti al mare il richiamo via social degli eventi e poi sempre da Foligno a Monsignor Paglia il premio Medicus 2022 gli è stato consegnato da Vittorio Sgarbi domani invece verranno assegnati altri riconoscimenti a Norcia San Pellegrino illumini gli amministratori l'appello dell'arcivescovo Renato Boccardo per la ricostruzione in occasione della riconsegna delle tre campane alla chiesa parrocchiale da Spoleto pregiudicato di 57 anni guida l'auto senza però aver mai preso la patente e dunque è stato ovviamente denunciato dagli accertamenti dei poliziotti è emerso anche che il passeggero invece era sottoposto ad una misura cautelare ma di divieto di avvicinamento con allontanamento dalla casa familiare a Spoleto di nuovo di scarica abusiva cielo aperto il comune obbliga la rimozione andiamo a Terni militare morto sul lavoro sconcerto e rabbia dei sindacati sulla tragedia della polveriera di Nera Montoro come mai era solo tra inchieste aperte e tanti interrogativi da sciogliere in una dinamica incerta parliamo del decesso del maresciallo capo Andrea Fagiani di 49 anni che sarebbe stato ucciso dal ribaltamento di un muletto alla polveriera di Nera Montoro e sembra sia avvenuto mentre il militare era da solo fatto che se confermato aprirebbe dicono i sindacati concreti scusate interrogativi sul rispetto delle più elementari norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni così proprio i sindacati di FPCGL FPCSLE Will PA sull'incidente mortale sul lavoro in cui purtroppo mercoledì è rimasto ucciso il comandante del deposito dell'esercito il ricordo a Fonte Nuova il paese d'origine del comandante lo ricorda proprio tutta la città con il suo cordoglio e poi invece sempre da terni ma cambiando argomento microchirurgia della mano l'intervento innovativo in ospedale è stato eseguito su una paziente di 27 anni furti nelle case ci sono 4 arresti nella zona di Piazza Dalmazia si spacciavano per tecnici dell'acqua con tanto di pettorine cartelline e attrezzi e si erano introdotti nelle case degli anziani alunni in visita alla centrale Galletto e Cascata delle Maffine Marmore dunque la centrale idroelettrica che torna ad essere scuola di energia e sostenibilità a Dorvieto invece si parla del mercato perché ci sono meno spazi per gli ambulanti la giunta comunale infatti ha deciso di ridurre i posteggi riservati passando da 61 a 48 dicono va migliorata la fruibilità e l'accessibilità dei mezzi di nuovo a Terni c'è il convegno dell'ambasciatrice di Cuba che è in città e poi invece di nuovo da Orvieto carcere alta tensione agenti sulle barricate la sospensione delle ferie sfocia nella mobilitazione l'ira dei sindacati il personale privato di un diritto primario privato scusate di un diritto primario polizia penitenziaria dunque in assemblea e poi a Castelviscardo invece un orto didattico per i bimbi dell'asilo veniamo alle notizie del messaggero ripartiamo da Perugia si parla di rifiuti le famiglie pagano di meno le riduzioni anche dell'8% nel calcolo contano meno i metri quadrati Tari meno cara per il 70% degli utenti per le utenze non domestiche gli aumenti sono sterilizzati e poi ci sono tante iniziative perché a primavera sbocciano gli eventi nei quartieri suolo pubblico bar e ristoranti possono pagare la tassa dei rifiuti invece in quattro rate medicina narrativa c'è l'incontro oggi dalle 9 alle 13 in facoltà più nello specifico nell'aula magna del dipartimento di medicina e chirurgia dell'università degli studi che ospita il convegno la medicina narrativa nella pratica clinica esperienze umbre a confronto di nuovo l'agenda con gli eventi prossimi innanzitutto quello di Avis musica arte sapori Avis sotto le stelle domani di serata all'insegna del divertimento e dell'impegno nella donazione del sangue dalle 16.30 ai 20 tra piazza 4 novembre piazza italia giardini carducci con il concerto di Vallesi si parla anche della fondazione cucinelli tornano i concerti per la terra santa e poi Marazzi e il manifesto di Umbria Jazz è l'arte che sento dentro ovvero si parla di Luigi Marazzi che è il vincitore che ha realizzato il progetto vincitore per realizzare l'immagine ufficiale di Umbria Jazz 2022 e poi andando ancora avanti c'è di nuovo la notizia relativa a Città di Castello ad Assisi invece sempre la cronaca con la vicina che salva un'anziana da un truffatore a Gualdo Tadino invece alla Val Sorda arrivano due radar che servono però non sono autovelox ma servono per controllare il traffico lungo la strada sud del comune e poi invece a Marsciano la truffa con la scusa dei farmaci di nuovo un'operazione dei carabinieri che ha sventato una truffatrice e poi a Gubbio invece sono stati premiati come detto gli studenti di refiutor si è concluso questo progetto didattico a Foligno ospedale commissione al lavoro per polo unico Foligno Spoleto confronto a tutto campo fra comune ASL e sindacati di CGL Cisleville chieste risposte sulle liste d'attesa case di comunità e difficoltà organizzative per la cultura le opere di Balla De Chirico De Pisis Magritte Picasso sono in mostra al Ciac di questo argomento si parlerà anche nel nostro TG Plus delle 14 e 15 di oggi ecografo portatile per nefrologie e dialisi la donazione di un'azienda antico pastificio Umbro con sede a Foligno che dunque si è impegnata per la sanità amici della musica all'auditorium Cegibboni il vincitore del premio Paganini 2021 a Spoleto Boccardo nuova bordata ai politici da San Pellegrino di Norcia dove sono tornate le campane e la preghiera che fa discutere il signore mette il sale nella testa degli amministratori chiamati a gestire la ricostruzione in aula intanto parla il numero uno del parco per il processo per la sede della Proloco per lo sport boxing club Bartolini che è protagonista Criterium va a segno e Russici vince a Perugia andiamo a Terni dove la notizia in apertura ci parla di un pronto soccorso in ginocchio anche due giorni per i ricoveri malgrado il blitz dell'assessore Coletto la situazione si legge continua a peggiorare mancano anche barellini e poltrone e intanto i letti nei corridoi aumentano il caso di esagio lavorativo a Palazzo Spada c'è l'ispezione della US il 26 maggio vertice in comune il consigliere del Movimento 5 Stelle Luca Simonetti dice fare chiarezza pressing della UEL alta specializzazione di nuovo la notizia di una super equipe che ha eseguito un intervento innovativo sulla mano di una 27enne piazza Tacito riapre la fontana ma restano i dubbi a causa di questo stop and go proprio della accensione e spegnimento della fontana incidente alla polveriera l'ufficiane lavorava da solo per spostare del materiale nera Montoro il muletto si è ribaltato lungo una strada interna scoscesa alle indagini per verificare se sono state rispettate le norme sulla sicurezza il doppio colpo finti tecnici dell'acqua ripulivano le abitazioni sono stati presi in quattro dopo aver tentato proprio questa doppia rapina e poi l'evento Amelia ospita la prima biennale letteraria l'appuntamento è dal 27 al 29 maggio un appuntamento che ospita che vedrà sul palco ospiti locali e nazionali la tradizione da Terni cantamaggio sui carri tornano a salire i giovani dunque si parla di ricambio generazionale soprattutto però per San Giovanni per il gruppo Riccio invece niente svolta a Castel Viscardo la giornata delle api al via una raffica di appuntamenti a Narni invece il ritorno al medioevo nei disegni c'è anche la corsa gli studenti premiati hanno raffigurato le sfide tra cavalieri riprendendo in parte anche i simboli dei vari terzieri e vediamo anche le notizie con il Corriere da Perugia Flixbus porta a 70 i collegamenti con Perugia oltre alle connessioni interne ci sono gli scali per Monaco ma anche Innsbruck Klagenfurt novità anche per Todi Assisi e Foligno e poi si chiede un consiglio aperto ai cittadini per discutere del nodo stradale la richiesta è stata depositata dai rappresentanti delle opposizioni in giunta come detto con la tariffa Tari diminuisce il 60% delle utenze domestiche di nuovo da Perugia festa di primavera a Borgo Sant'Antonio e inaugurazione della casa d'accoglienza domani mostra mercato di prodotti naturali degustazione di miele laboratori didattici e poi teatro e musica in centro storico dopo 67 anni lo dicevamo in apertura chiude la libreria Paolini il 18 giugno cesserà la gestione i locali saranno rinnovati dalla diocesi a Castiglione del Lago la richiesta serve manutenzione fatta con competenza Materazzi che è il presidente di Confcommercio dice la sua riguardo agli interventi a tutela del Lago intanto c'è il via libera al taglio delle macrofite la giunta regionale autorizza l'unione dei comuni a procedere con i lavori a Magione un'iniziativa contro il bullismo a case nuove che sarà anche occasione per raccogliere fondi per aiutare la piccola Lucia una bambina di 9 anni residente proprio nel comune affetta da acondroplasia una malattia che colpendo le ossa lunghe impedisce la crescita a Piegaro protezione civile dei San Giorgio Valnestore insieme alle associazioni di volontariato ci spostiamo ad Assisi si parla di questa notizia di cronaca che però abbiamo già letto e quindi andiamo avanti quella del furto sempre ad Assisi le decorazioni di Giorgio Scala in terra ombra se ne parla oggi con l'analisi dell'altare maggiore nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva a Cannara la politica minoranze all'attacco città esclusa da finanziamenti regionali dito puntato di PD siamo Cannara la nostra Cannara è articolo 1 tutti dicono nessuna motivazione chiara in merito e poi per le elezioni da Todi serve continuità fermarsi sarebbe un errore così il sindaco Ruggiano che segna i punti salienti della sua ricandidatura ovvero famiglia riduzione delle tasse e lavori pubblici sempre a Marsciano compra Playstation online ma è una truffa a Monte Castello di Vibbio spaccatura nella maggioranza perché si dimettono tra i consiglieri crisi nel governo Brugnossi andiamo ancora avanti siamo a Città di Castello alloggi a Canone agevolato per over 60 in difficoltà a distanza di 8 anni dall'ultima assegnazione apre casa albergo di via Signorelli Fano Grosseto e 78 c'è stato come detto il sopralluogo del commissario Simonini e poi a Gubbio invece finalmente torniamo a vivere la festa si parla dei ceri perché domenica sono proprio attesi i ceri mezzani dopo lo stop per la pandemia l'auspicio di tutti è quello che la festa si svolga in amicizia e condivisione approfitto per dire che ovviamente la nostra emittente TRG seguirà proprio la diretta della festa dei ceri mezzani a Guadutadino andiamo avanti con le notizie il concorso dedicato all'Europa vincono i ragazzi del Casimiri gli studenti della Quarta A dello Scientifico hanno realizzato più nello specifico un video e poi di nuovo la notizia che sono stati installati dei radar per monitorare il traffico sulla strada verso Val Sorda c'è uno speciale dedicato alle grigliate che però lasciamo ancora una volta la vostra lettura andiamo a Foligno cittadini vedranno gli aumenti in bolletta Filipponi replica Zuccarini sulla vicenda dei presunti rincaritari e dice gli amministratori non giochino a nascondino Giuseppe Gibboni domenica il violinista vincitore a 21 anni del premio Paganini si cimenterà domenica pomeriggio all'auditorium e poi da Trevi invece Falasca presidente dell'entepalio dei terzieri il neoeletto ha detto sono grato a chi mi ha dato fiducia sempre a Foligno i residenti dicono sia la movida ma vogliamo più controlli a dieci anni si legge dalla nascita del comitato nulla è cambiato il centro dicono non è una discoteca dalla fondazione Canarifolle 253 mila euro all'USL2 per assistenza ai servizi fondi per chirurgia robotica e palestra oncologica a Gualdo Cattaneo domani l'inaugurazione della sede dell'FNP CISL a San Terenziano il segretario Sante Fracca Alvieri dice pronti a fornire ascolto e informazioni a lavoro e pensionati a Spoleto ci sono lavori per 2 milioni nelle frazioni Alvia i progetti esecutivi delle opere si è conclusa la fase partecipativa con i cittadini l'obiettivo è quello di aprire i cantieri entro la fine dell'anno come detto guidava l'auto ma non aveva mai preso la patente un uomo di 57 anni è stato denunciato presentazione dei progetti di ricostruzione slittano termini per chi beneficia di CAS e SAE ci sarà tempo fino al 15 ottobre proroga anche per confermare i requisiti per mantenere contributo o casetta a Norcia il processo per la sede della Proloco si torna in tribunale il prossimo 20 ottobre e poi sempre a Norcia a San Pellegrino come detto tornano le campane perché a 6 anni dal sisma sono state collocate su una torre orizzontale al lato del centro di comunità siamo a Terni 4 arresti per i furti nelle case anche di questo abbiamo già parlato e poi inquinamento invece sono pronte due diffide Europa Verde Umbria chiede di conoscere i dati del monitoraggio su aria e suolo sempre a Terni ospedale intervento all'avanguardia riuscita l'operazione per correggere dei problemi alla mano di una giovane paziente Umbria jazz in arrivo 180 mila euro i fondi serviranno per l'edizione weekend di metà settembre fra gli ospiti previsti si parla anche di Christian De Sica Cardeto Erbalta e Zanzare protestano i residenti perché preoccupa la situazione in cui versa Piazza Cuoco ancora da Terni dimenticati negli scantinati gli antichi reperti degli Umbri l'associazione Umbru lancia l'allarme dicono croci celtiche e svastiche di 3 mila anni fa ma il nazismo non c'entra niente con i nostri progenitori si tratta di una memoria da recuperare e poi sempre da Terni la centrale di Galletto che riapre le porte come detto agli studenti andiamo ancora avanti la cooperativa Cips intanto ha festeggiato i primi 40 anni di attività per il futuro si punta sull'amministrazione condivisa ad Orvieto complanare ok allo spostamento il tracciato passerà a 30 metri dalla 1 esclusa la presenza di siti archeologici nell'area dei lavori in consiglio comunale si è parlato del progetto di massima che a giorni presenterà la società autostrade sempre da Orvieto ex ospedale la FNP CISL rilancia la casa della salute secondo il segretario Trentini l'immobile una volta riqualificato andrà messo in rete con il Santa Maria della Stella andiamo ancora avanti con le notizie si parla del salone del libro di Torino in cui partecipa anche l'Umbria e poi dell'archivio di Stato di Spoleto perché sono in arrivo 45 mila euro per indagini antisismiche dalla legge di bilancio sono stati stanziati fondi per conservazione e fruizione del patrimonio archivistico passiamo alle notizie sportive lo facciamo con le pagine della Nazione in apertura il calcio di serie B Comotto ai saluti ho fatto tutto per il grifo divorzio con il DG che ha detto capisco santo padre ma mi dispiace perché sono arrivato con il Perugia in difficoltà e ora lascio un club che funziona leggendo qualche passaggio proprio dall'articolo della Nazione Gianluca Comotto il Perugia si separano ancora una volta stavolta però è un addio forse più doloroso di quando appese le scarpette perché arriva dopo due stagioni da dirigente in prima linea vissute senza sbavatore e che hanno restituito al Perugia un bel presente andando ancora avanti con le notizie sportive si parla ovviamente anche del calcio di serie B però della Ternana Luca Relli e quella lettera anche io voglio vincere il tecnico dunque torna a parlare racconta il decalogo del presidente dicendo l'ho firmato perché c'erano elementi validi per farlo ma resto me stesso per il calcio di serie C Gubbio subito lo staff tecnico incontri con Mignemi e Pannacci il presidente Sauronotari dopo l'intesa a tutto campo raggiunta con l'allenatore Vincenzo Torrente sta proseguendo dunque nei colloqui ad un ritmo intenso per arrivare nel fine settimana come programmato ad avere un quadro esatto della situazione relativa allo staff tecnico volley serie B1 femminile la 3M Perugia esonera Buonavita per la finale squadra Amarangi e poi invece il calcio di serie D con il Foligno verso il dentro o fuori di Rieti possibili rientri per Ciganda e Valentini vediamo anche le notizie con il messaggero in apertura sempre la notizia Grifo Comotto è divorzio interrotto il rapporto con il DG che andava a scadenza sono stato determinante ora al Perugia serve altro così proprio ha dichiarato Comotto aggiungendo dispiace non concludere il progetto volevo tentare la A ma capisco Santo Padre il momento è difficile per tutti ed intanto lì si dice l'anno prossimo puntiamo alla salvezza e dunque continua a credere nella serie A ma anche nel gruppo nei tifosi e in Alvini si parla però anche di cuore biancazzurro con il Foligno Pagliari dei miracoli Foligno puoi salvarti all'ultimo minuto e dunque il calcio di serie D e poi di nuovo la notizia che riguarda mister Lucarelli per la Ternana ero pronta a lasciare svela dunque il retroscena della lettera ultimatum la firma è solo una stretta di mano più concreta del solito ha detto il tecnico delle ferie che ha spiegato dunque le ragioni del sì a Bandecchi se questo giocattolo funziona è anche per merito mio questa è la sua dichiarazione la storia accolle rolletta una grande festa con corie fumogeni per i 50 anni del super tifoso rosso verde Claudio Gentili e poi si parla di calcio a 5 con la Ternana Fuzzal addio promozione passa lo United Pomezia per 2 a 1 vediamo anche i titoli con il Corriere dell'Umbria anch'esso dedicato in apertura a Grifo e Comotto all'addio si separano le strade con il DG sono stato troppo bravo in poco tempo ho sistemato tutto il presidente mi ha detto che sono una figura troppo impegnativa anche nei costi e poi Ternana ti porto in serie A con Lucarelli che spiega il sì alla lettera di Bandecchi si parla anche di bolle in Superlega Sirci Recine qua la mano addio fra vecchi amici a Perugia il presidente dice siamo cresciuti insieme ci dispiace l'ex DS commenta grande opportunità è stata grazie a tutti ciao fratello Bino ed ora però c'è la questione allenatore Gerbic o Creto questa è l'ultima notizia che leggiamo in questa prima parte del TG Mattino qui si chiude la rassegna stampa ma come sapete torniamo con il caffè subito dopo la pubblicità